La solitudine positiva ci aiuta ad essere persone responsabili, ci aiuta a compiere scelte che noi non abbiamo fatto, ci insegna anche a fare queste scelte che noi dobbiamo fare per il bene degli altri, oltre che per il bene nostro, ci aiuta a riscoprire il senso di appartenenza, ma la solitudine positiva quando scegliamo di stare soli, ci aiuta anche ad avere quella giusta distanza, quel giusto distacco emotivo da tante situazioni della nostra vita. Anche se il distacco, molte volte per esempio, da persone con cui si vivono storie di amore, in una coppia di fidanzati, delle volte anche in alcuni matrimoni, molte volte quel tempo di distacco, quello che oggi chiamano pausa di riflessione, ma deve essere veramente una pausa di riflessione, non una scusa, un modo per addolcire e per dire io, per non avere il coraggio di dire questa storia è finita, no. Molte volte dicevo, dopo un tempo di solitudine, di distacco da una storia d'amore, da una storia di amicizia, si riscopre la bellezza dell'altro e la positività e la ricchezza di certe relazioni. Ecco la giusta distanza, perché quando siamo troppo coinvolti emotivamente non riusciamo ad essere obiettivi, non riusciamo ad essere sereni. Per esempio un docente deve avere la giusta distanza nei confronti dei suoi allievi e alunni per poterli appunto renderli liberi e per poterli valutarli in maniera serena e giusta. Così anche un parroco non può fare chi figli e chi figliastri, come diciamo. Così in un'azienda, così in un'ospedale, in una qualsiasi parte dove ci sono persone bisogna avere la giusta relazione, anche in famiglia. La giusta relazione, la giusta distanza. È difficile, ma non è affatto impossibile. Per esempio, nell'esperienza della malattia dobbiamo avere quel giusto distacco, quella giusta distanza per poter vivere in maniera, non dico serena, ma matura. L'esperienza della malattia. Perché se no io non ho la giusta distanza da quella malattia io confondo le mie potenzialità, la mia personalità, la mia dignità con la malattia. La malattia, anche quando porta alla morte, va sempre vissuta con distanza, perché questa distanza giusta, questa logica fusionale, come dice Don Luigi Maria Epicoco, ci porta a non vivere e ci porta a perdere tutte le qualità, le ricchezze interiori che abbiamo per poter reagire alla stessa malattia. Quindi, chiedo scusa, la solitudine per ricercare la giusta distanza e la libertà dalla logica fusionale. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!